raffaella fico ha deciso di portare davvero solei sorge in tribunale dalle parole ai fatti a confermare che la denuncia è davvero partita saranno poi gli organi competenti a decidere se si andrà a processo oppure se archiviare la faccenda è stata la stessa show in un'intervista rilasciata al magazine nuovo l'ex compagna di mario balotelli ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinta ad affidarsi alla giustizia la porto in tribunale determinate cose non vanno dette ha puntualizzato raffaella al settimanale diretto da riccardo signoretti la vicenda è nata dopo che solei al grande fratello vip ha rivolto le seguenti parole alla fico by bit h espressione dello slang americano la cui traduzione letterale italiana in parte tradisce il significato dell'espressione bit h infatti è un termine che preso isolatamente può anche stare a significare la diciamo in modo dantesco donna da conio senza dirla in dantesco put in una espressione come quella utilizzata da solei invece il significato è diverso più o meno questo ciao ciao str z non certo una tenerezza comunque fatto sta che raffaella è decisa ad andare fino in fondo se l'ho denunciata sì sono una madre e una donna solei mi ha insultata in tv e adesso io la porto in tribunale determinate cose non vanno dette a nessuno a non andare giù alla showgirl campana alcuni atteggiamenti assunti dall'italo americana con la quale nella casa più spiata d'italia ha avuto non poche frizioni abbiamo avuto discussioni accese ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei a me da fastidio il suo non essere vera e ancora purtroppo percepisco quando le persone non lo sono lei non mi trasmetteva mai emozioni per me il suo modo di fare era finto non ho mai visto sincerità da parte sua d'altra parte la napoletana aveva palesato alla diretta interessata la sua intenzione a non lasciar correre e quindi ad andare per vie legali non posso più accettare le tue cattiverie spiegava in modo concitato alla stessa solei ti prendi la responsabilità di quello che hai fatto hai detto parole orribili e lo sai e mi chiedi anche quali tipo quel termine inglese conosciuto da tutti quella parola ha un significato e verrà valutato nelle sedi oppure